I carabinieri del NAS di Taranto, nell'ambito di specifici servizi istituzionali, hanno svolto virati controlli presso alcuni esercizi commerciali di vendita giocattoli e prodotti per la cura e l'igiene della persona, in particolare per quelli destinati ai bambini. In due esercizi commerciali di Taranto, i militari hanno accertato che i titolari avevano posto in vendita prodotti cosmetici destinati ai bambini, shampoo, gel doccia, gel doccia, spugna per bambini, che riportavano la data di scadenza oltrepassata e cancellata dal confezionamento esterno, mentre sui filaconi era riportata la scadenza originale oltrepassata da diversi anni, tanto da indurre in inganni i consumatori sulla reale qualità e sicurezza dei prodotti, rendendoli potenzialmente pericolosi. I militari hanno quindi proceduto al sequestro penale di 43 confezioni di questi cosmetici, sottraendoli di fatto dalla vendita. Entrambi i titolari sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria. Per gli indagati, vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Grazie. 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 Grazie.